Sono necessarie 500.000 firme ma il nostro obiettivo è di un milione e mezzo di firme per motivi tecnici che molte potrebbero essere annullate perché magari manca qualche dato ma anche perché vogliamo dare un segnale forte. La CGL è in piazza per raccogliere le firme sui quattro referendum sul lavoro che principalmente hanno l'obiettivo di abolire l'intero Job Act. I quattro requisiti sono, il primo è per ripristinare la possibilità di un giudice di rimettere al lavoro i lavoratori licenziati ingiustamente dopo il contratto a tutte le crescenti i lavoratori assunti dal 2015 in poi non hanno più questa possibilità. Vogliamo con il secondo requisito portare questa possibilità anche nell'azienda sotto i 15 dipendenti battaglia storica della CGL. Vogliamo con il terzo requisito mettere un limite a quelli che sono i contratti a termine senza motivo per ritornare un po' come era una volta. L'assunzione normale è a tempo indeterminato e poi se ci sono dei motivi giusti è giusto farli a termine ma non tutta la vita. L'ultimo anche in virtù di ciò che è successo a Firenze vorremmo che negli appalti chi dà in appalto o in subappalto sia un po' responsabile di quello che succede in quell'appalto o in subappalto soprattutto nei temi della sicurezza nel lavoro. Primo perché comunque è giusto che quando succede qualcosa qualcuno se la prenda la responsabilità e se la prenda anche chi ha deciso di dare quel subappalto o quell'appalto a una determinata azienda magari anche con un massimo ribasso. La raccolta firme andrà avanti da un punto di vista dei presidi fisici fino al mese di giugno ma sarà possibile firmare anche online sul sito della CGL.